Il Fondo Sociale Europeo e Giovani Sì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani, di nuovo insieme per informare i giovani delle opportunità della Regione per avvicinarsi al lavoro, perfezionarsi e formarsi, come con la nuova campagna informativa Tutta un'altra musica e con i due appuntamenti autunnali dell'European Social Sound, evento informativo interregionale dell'FSE legato a un contest tra band musicali e del Rock Contest, storica gara toscana tra band emergenti dell'emittente Controradio presentati a Firenze. Si scommette ancora una volta sul tema della musica, la musica come linguaggio che riesce ad aggregare tanti giovani ma anche un linguaggio che i giovani utilizzano anche in modo professionale. Tre le serate toscane dell'European Social Sound, il 5 ottobre al The Cage di Livorno, il 12 ottobre a Officina Giovani di Prato e la finale regionale alla FLOG di Firenze il 19 ottobre, prima della finale nazionale a Matera, il 14 dicembre. In palio 10.000 euro per un progetto artistico e 3.000 euro di premio critica. Al Rock Contest poi torna il premio FSE Giovani Sì di 3.000 euro al brano che meglio esprimerà la condizione giovanile. Andiamo a raccontare il Fondo Sociale Europeo e le opportunità che la regione toscana offre attraverso Giovani Sì all'interno di concerti. I ragazzi si fermano, i giovani si fermano, chiedono informazioni, ci sono degli stand informativi e quindi ascoltano anche in un contesto puramente ludico quelle che sono le opportunità che potrebbero essere utili per loro. La Toscana ha destinato il 35% delle risorse del Fondo Sociale Europeo agli interventi per l'autonomia delle nuove generazioni, offrendo a 300.000 giovani con oltre un miliardo di euro le opportunità presentate nelle serate musicali. È un'informazione mirata che c'è di raggiungere anche quei giovani che hanno più difficoltà ad informarsi ed avvicinarsi ai canali di informazione istituzionali più tradizionali. Associare l'informazione sulle opportunità per i giovani ai contest tra band musicali è una scommessa che sta già dando risultati. Questa è una modalità interessante per promuovere le opportunità che il Fondo Sociale Europeo tramite i giovani si propone per i giovani perché tra l'altro queste proposte arrivano proprio in un momento dove c'è svago, dove c'è la musica e quindi anche un momento propizio per ascoltarle.